Presentarvi l'iniziativa di domenica che ci sarà ad Albate nella zona della ex polveriera o polveriera, comunque di fatto era un'ex polveriera utilizzata qualche anno fa, adesso rimessa a posto, sistemata, rivista è corretta mi viene da dire, è diventato punto di ritrovo e di ristoro molto importante. Domenica c'è una bella iniziativa per la quale è qua con noi Stefania Pastore di Elpa Association che saluto e che ringrazio, ce la presenta lei. Ciao Stefania, buon pomeriggio. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Stefania, grazie. Grazie, grazie. Allora, buonasera a te e grazie di essere qua per presentare questa iniziativa. Adesso poi facciamo vedere anche la locandina, la locandina ufficiale della manifestazione e ho detto giusto, quindi è l'ex polveriera dove tanti anni fa appunto si mettevano munizioni e armi, adesso invece è tutta un'altra cosa, giusto Stefania? Esatto, adesso è diventato un luogo gestito da Martina e Tonino De Falco. Ah ecco, sì è vero, bravo, salutiamoli, le salutiamo, sono due persone veramente credo molto dinamiche che hanno deciso di mettersi in gioco, bravi se lo meritano davvero. E aggiungiamo anche Trombetta Edoardo che gli dà un colpo di mano. Esatto, esattamente. Allora, nel frattempo, Steffi, mentre tu stai parlando, faccio vedere la locandina ufficiale che è questa qua, il mercatino della polveriera, la vedete quella lì, quella abitazione lì era la ex polveriera, ora appunto sistemata e ristrutturata. Domenica ci saranno bancarelle, musica, ma anche Stefania un supporto importante, vero? Esatto. Un aiuto importante. Esatto. Praticamente l'evento di domenica servirà un po' per finanziare i miei progetti in Casa Mans, che si trova nel sud del Senegal, col quale collaboro da 14 anni. Verranno presentati dei progetti che sono in corso, proprio freschi, diciamo, con la raccolta fondi che è appena partita. E lo scopo è quello di poter raccogliere dei fondi attraverso la lotteria, il ristoro, per poter finanziare altre attività comunque di natura umanitaria. Ecco, perfetto. Con la tua associazione, giusto? Esatto. Ok. Ci sono attività per i bambini, c'è il punto ristoro, insomma, c'è tutto per la domenica che potete trascorrere lì. Io so, Stefania, perché ci sono stato qualche mattina a fare dei video al buongiorno, e devo dire che ho trovato tanta gente che si diverte, corre, fa gli allenamenti, li guardavo un po' con invidia, però li ho visti tanti, quindi ormai è diventato un bel punto di ritrovo. Sì, esatto. Teniamo presente che Albate è un po' un oasi verde qua nel Comasco. Ecco, esatto. Si parte, giusto per darvi un riferimento, subito dopo l'abitato di Albate, vicino alla caserma dei Carabinieri, giusto? Esatto. La polveriera la trovate lì subito ad Albate? Sì, appena dopo i primi giochi si trova subito la polveriera sulla destra, è proprio all'inizio dell'imbocco del bosco, che è la strada che poi conduce verso Lipomo, quindi chi può venire può arrivare anche dalla parte di Lipomo partendo verso Albate. È vero, hai ragione, Stefania, chi lascia l'auto a Lipomo può fare la passeggiata, che è una bellissima passeggiata pianeggiante senza alcun problema, fino ad Albate, o viceversa da Albate fino a Lipomo. Stiamo facendo vedere la locandina, saluto tanta gente che è con noi collegata, anche sul web, Dario, Agnese, buonasera cara, Clara, Anna Maria, Luigi, Nicola, Samuere, anche ciao Samy un saluto anche a te, un caro saluto, grazie, Samuere dalla Toscana, ma ci segue sempre e ecco, questa è l'iniziativa, come dice Nicola è una bella iniziativa, certamente molto bella, per dare un contributo alle tue belle attività, che sono quali? Ecco, magari dacci un specifico Stefania. Diciamo che le attività principali, parlo almeno di quest'anno, sono incentivare la scuola dei bambini, che sono 14 anni che sto seguendo, è una scuola che nel 2008, quando è iniziato a portare i primi aiuti umanitari, c'erano presenti 38 bambini, ad oggi sono 428 bambini. Ecco, ricordo ancora la località Stefania. È Casa Mansa, che si trova nel sud del Senegal. Esatto, stiamo parlando del Senegal, quindi in Africa, centrale, sì, Africa centrale, esattamente, sì. Ecco, prego, vai avanti. Poi stiamo finanziando un orfanotropio che ospita 25 bambini, quindi con materiali per costruire le culle, ricoprire i materassini, generi alimentari, farmaci. Stiamo aiutando delle comunità proprio nella costruzione e produzione di sapone, in modo che possono incentivare la loro attività. E poi interveniamo sulle famiglie più disagiate, proprio per aiuto a livello di farmaci e alimentari. Quindi diciamo che i progetti principali sono questi, anche perché l'associazione per cui collaboro è veramente piccolina e io comunque in Italia sono da sola, cerco di organizzare degli eventi, con il patto anche del Covid in questi due anni di chiusura si è fatto ben poco. Ecco, la tua presenza e l'invito che facciamo, ovviamente ai nostri ascoltatori di far girare la cosa. Questa iniziativa di domenica serve proprio per questa cosa qui, per far conoscere anche la tua help e per invitare domenica la gente ad Albate, lì alla polveriera, dove come vedete ci sono le mancarelle, c'è la lotteria solidale, c'è la musica, c'è lo spazio, l'attività per i bambini, c'è il punto ristoro, quindi ecco l'invito è questo qua, per venire a trovarvi. Magari è anche solo fare un passaggio, però in effetti un aiuto ce l'hai bisogno Stefania. Sì, volentieri, ne ho proprio bisogno. No, assolutamente, è una cosa bella quella che stai facendo e hai detto che non è che hai tanta gente, quindi se qualcuno vuole darti una mano, ecco è anche l'occasione magari per dire, oh, se qualcuno ha delle cose che ti possono servire, volentieri. Ben venga, si raccoglie tutto, veramente. Perfetto, ecco. Benissimo, quindi questo è l'appuntamento di domenica alla polveriera di Albate e abbiamo detto credo praticamente tutto, ah, quando iniziate Stefania? Allora, l'evento inizierà dal mattino alle 11 fino alla sera alle 19, causa se dovesse piovere purtroppo verrà rimandato l'evento. Ecco, questo è importante, in caso di, ho visto le previsioni, dovrebbe tenere. Sì, diciamo una giornata autunnale sì, ma non dovrebbe essere brutto, quindi in caso però di maltempo si rimanda. No, lo rimandiamo, sì, dobbiamo risentire tutte le persone che partecipano con le bancarelle e cercare un'altra data, per quello spero veramente che domenica il tempo sia clemente con noi. Ma ce l'auguriamo davvero, eccola qua ancora la locandina ufficiale, ve la faccio rivedere, giusto per memorizzare anche visivamente quello che ci sarà domenica, il mercatino della polveriera, si chiama proprio così l'iniziativa, ce l'ha presentata Stefania Pastore che è qua con noi in studio, come avete sentito, in caso di maltempo niente, ma se no, domenica vi aspettano lì. Abbiamo detto tutto Stefania? Sì, credo proprio. Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto, ok, invito i nostri amici allora a far girare questa cosa. Ciao Luigi, è una bella iniziativa. Sì, ciao Samy, un abbraccio anche a te da Firenze, Nicola abbiamo già salutato, Clara pure anche a te, un caro saluto, cara Clara, buonasera a tutti, allora cari amici di Cioccomo che ci seguite sempre con grande affetto in diretta radio, sui nostri social, Facebook e YouTube. Grazie a te Stefania. E grazie a voi. Per essere venuta a presentare questo mercatino della polveriera.